Hanno scelto di manifestare davanti alla sede del Mise in concomitanza con l'insediamento del nuovo governo Draghi, perché il messaggio che si vuole mandare è chiaro. Gli esecutivi possono cambiare, ma la priorità resta sempre la stessa, salvaguardare i lavoratori. Si sposta a Roma la protesta di 140 dipendenti della Wirpula di Napoli, ancora senza risposte da mesi, e l'avvertenza dello stabilimento di Via Argine è stato uno degli argomenti più discussi nell'Assemblea Generale della FIOM regionale, alla quale ha partecipato anche il segretario nazionale Francesca Redavid. La mancanza di un'idea di politica industriale in questo paese e la possibilità per le multinazionali di prendere anche risorse pubbliche e fare un po' quello che gli pare è rappresentata dall'avvertenza Wirpul, dove appunto l'azienda, la multinazionale, ha preso risorse, non ha rispettato gli accordi e pretende di chiudere il sito storico di Napoli. È il momento di dare una svolta, se si vuole dare questo segnale, a partire, il recovery foul non può partire chiudendo le fabbriche che già esistono, a partire da soluzioni vere per le fabbriche, per quei lavoratori che hanno competenze importanti che devono essere salvaguardate. Per la guida della FIOM l'Assemblea è stata anche l'occasione per illustrare i contenuti del rinnovo del contratto nazionale di categoria. Un contratto importante dando aumenti di 100 euro per i terzi livelli operai, che significa 112 euro per la media della categoria, di aumenti salariali, quindi il doppio dell'inflazione ed è un elemento molto significativo e importante.